oggi ragazzi voglio parlarvi del perché non gioco in minecraft 1.19 come tanti di voi sanno in 1.19 è uscito il ban e suspension update ovvero i ban su minecraft e anche le sospensioni che effettivamente possono venire applicate ingiustamente ad esempio uno streamer o uno youtuber può avere tanti report da utenti che magari lo odiano e io per questo motivo ho deciso di evitare di giocare in 1.19 per non venire bannato da minecraft ingiustamente quindi do qualche consiglio per evitare i ban su minecraft eh no allora è la mamma puttana come vi dicevo la miglior cosa innanzitutto se giocate in 1.19 o nelle versioni successive in caso che guardiate questo video in un futuro 1.20 1.21 e così via è di evitare di scrivere messaggi in chat in server pubblici ad esempio io in questo momento sono su ipixel e per fortuna questa moderazione è disattivata quindi nessun utente può attivare un report da questo server sì vi dico di evitare di scrivere messaggi in chat perché la maggior parte delle persone magari vi possono riportare direttamente da così seconda cosa per evitare ban e queste cose qua vi consiglio di andare in server dove non è abilitata questa moderazione come ad esempio lo è ipixel e penso sia anche coral tre diamanti perfetto la quarta cosa che magari può essere consigliabile fare è cambiare il vostro nickname se siete delle persone abbastanza conosciute dato che vi potrebbero riportare direttamente sapendo il vostro nick io l'ho cambiato perché preferivo evitare di avere riscontri negativi un altro consiglio applicabile è evitare di giocare appunto nella versione 1.19 si potete semplicemente giocare alle vecchie versioni come lo è a 1.18.1 1.18.2 1.17 1.16 infatti banna avverrando soltanto dalla 1.19 in poi o 1.19.1 non ricordo bene forse c'è ancora qualche snapshot della 1.19 che potete giocare così da avere il warden perché comunque un aggiornamento abbastanza importante se fate delle vanille in multiplayer questo è il quanto io spero non veniate bannati ingiustamente e vi avviso che c'è già tanta gente che è stata bannata ingiustamente quindi evitate di fare cazzate oh what the fuck vabbè i soliti bug di minecraft wow in questo momento sto pingando 15 suoi pixel direi che nel frattempo possiamo andarci a vincere la bedwars per finire il video là ci sono verde e giallo che stanno combattendo può essere un buon momento per andare a rubare tutti gli smeraldi al centro un armor di smeraldo ci fa ben comodo e prendiamo il resto avrei bisogno anche una spada eh però dovremmo far fuori il verde che sta là in fondo però mi fa un po' di paura quindi eviterei di andare eccolo là il verde possiamo andare ad attaccarlo ora che ho lasciato i materiali oh ok grazie prendiamo il resto mamma mia quanti smeraldi ho raccolto ragazzi posso letteralmente full maxarmi tutto spada in diamante adesso ci serve anche un paio di mele sicuramente una fireball ma dai che mea pixel che ogni volta che premi il tasto destro per aprire la cesta ti tira la fireball ho un altro casino di smeraldi ragazzi che possiamo utilizzare per prendere quello che vogliamo no dai no dai bro però no dai bro però no dai bro no dai gros ok shire